Previsione del tempo per la giornata di domani venerdì 10 marzo, cielo sereno poco nuboloso per transito di deboli strutture cumuliformi, precipitazioni assenti, temperature massime lieve diminuzione, minime in lieve aumento, venti moderati con raffiche fino a forti dal pomeriggio in particolare lungo la costa, mare adriatico mosso molto mosso dal pomeriggio. Grazie.